Roma, Eusebio Di Francesco, avrebbe preferito un esordio più leggero allo Stadio Olimpico. Magari una presentazione prima dell'inizio della stagione lo avrebbe aiutato, facendo da cuscinetto all'impatto emotivo che il tecnico faticherà a nascondere, entrando nello stadio in cui, da calciatore, vinse uno scudetto nel 2001. E invece di fronte, avrà subito l'Inter di Luciano Spalletti, a ricordargli che per le emozioni non può esserci troppo spazio. Un duello sul campo, mentre continua quello fuori, sul mercato, per Schick.